Sì, la partita non è che è stata facile, poi si è resa facile, siamo stati bravi a renderla facile. Sono partite dove ti giochi in risultato importante per noi, per la classifica, per cercare di rimanere il più possibile lontano dalla zona play-out, che è quella che ci interessa, la zona di bassa classifica. Quindi venivamo fuori da una sconfitta, in tre giorni, in una settimana abbiamo dovuto fare tre partite, quindi sono contento per l'attenzione che abbiamo messo nella partita, per il piglio giusto e quindi con il risultato sono stati bravi i ragazzi a renderlo facile. Io penso che la forza di questa squadra è che non ha riserve, quindi penso proprio questo, che chiunque fino adesso è entrato ha fatto sempre benissimo, è un po' la nostra forza questa. Quindi sono tutti ragazzi che hanno voglia, che si impegnano sia durante la settimana che durante la partita e io faccio i complimenti a loro perché dico sempre giocare è facile, è brutto quando star fuori che bisogna giocare. Loro si sono fatti trovare sempre pronti, quindi faccio i complimenti non solo a Marini che oggi è stato come sempre, d'altronde straordinario, ma tutti gli altri, direi Cimini, direi lo stesso Faenza, chiunque ha giocato, è entrato, è fatto sempre bene. Può ambire a qualcosa di più della salvezza del Ponte Pomano, mister? No, noi dobbiamo pensare a salvarci, ma non perché il nostro obiettivo è la salvezza e quindi giochiamo mentalmente, ogni partita per noi è una partita difficile, importante, dove se seguiamo a fare così, forse ci togliamo qualche soddisfazione. Il Nereto in realtà non aveva iniziato neanche malissimo, diciamo che l'avvio sembrava essere incoraggiante, e poi però che cosa è successo? Come mai questo 5-0? Purtroppo, sì, come hai ben detto tu, l'avvio non era andato malissimo, anche perché ci siamo allenati bene tutta la settimana e abbiamo provato tutta la settimana le cose che il mister ci aveva detto e i piccoli dettagli che poi hanno fatto la differenza appunto su entrambi i gol, tutti i gol, e purtroppo non abbiamo avuto la massima attenzione su quelli che erano questi dettagli e ci hanno portato a questi tre gol del primo tempo e ci hanno un po' tagliato le gambe, passate nel termine, e niente, questo è quanto. Se già manco avesse segnato il gol dell'1-0 sarebbe stata un'altra partita, secondo te? Sì, sicuramente se avesse fatto il gol dell'1-0 sarebbe stata subito un'altra partita. Il fatto è che comunque caratterialmente...